Se non vi potete permettere un impianto di alto livello perché lo spazio fisico a vostra disposizione è troppo limitato o è irrimediabilmente carente dal punto di vista acustico, la soluzione è forse l'ascolto tramite cuffia. In alcuni casi può essere un ascolto più corretto, equilibrato ed appagante. E con la messa sul mercato di performanti cuffie, di alta e altissima fascia da parte di molti costruttori, è possibile avere un'esperienza di ascolto senza compromessi che effettivamente compete per precisione e realismo con l'ascolto tramite i classici diffusori. Come potete vedere è disponibile in negozio il trio di amplificatori per cuffia proposto da Viva Audio. Sono collegati e li potete provare in tutta comodità sul nostro divano posizionato davanti al nuovo punto d'ascolto cuffia che abbiamo allestito. In dimostrazione trovate il Viva Audio Egoista 845, l'Egoista 2A3 e l'Egoista STX. La sorgente, sicuramente adeguata alla qualità dei componenti, è costituita dal nuovo streamer Nu Prime Omnia S1, a sua volta collegato tramite un cavo HDMI in formato i2S al convertitore Nu Prime Evolution DAC. Il top di gamma è l'Egoista 845, che è in grado di pilotare senza sforzo i carichi più difficili con una risoluzione ed una dinamica senza pari. Nel mezzo trovate l'Egoista 2A3, che utilizza un'accurata circuitazione tipica di Viva Audio in un telaio più piccolo, offrendo una miscela di incredibili caratteristiche sonore. A destra trovate l'Egoista STX, che è un amplificatore più recente, aggiunto al catalogo, ed è specificatamente progettato per le cuffie elettrostatiche di alta fascia, come STAX o Hi-Fi Man. E qui vediamo l'apparata cuffie a disposizione per gli ascolti. Iniziamo dalla prima, la Fostex TH900, la seconda la Fostex TH610 con i bellissimi padiglioni in legno. Poi abbiamo la Ultrason Edition 8EX, la STAX SR007MK2 e le nuove appena arrivate, la Focal Elegia e il top di gamma, veramente incredibile con i driver in beriglio, la Focal Utopia. Qui inquadrata anche la Sennheiser 800S, mentre questa che vedete è la Focal Elegia e la Focal Utopia. Ma non è finita qui perché in negozio abbiamo tanti altri modelli di cuffie. La AKG K280, l'Audiotecnica ATH AD700X, la Ultrason Pro 1480i, anche la Focal Listen Wireless, la Fostex T50RP, la Ultrason Go e la Fostex THS, tutte a vostra disposizione per ascolto. Grazie. 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 Grazie.